Sindaco, si parte una nuova edizione dell'Anara Pitanara, è sempre un'emozione ogni volta? Sì, questa è una manifestazione che ha raggiunto una notorietà a livello provinciale, direi, di rilievo. È vero che sento spesso parlare della sagra dell'Anara Pitanara, soprattutto per questo famoso piatto che sono le lasagne con l'anara, ma anche per quello che offre questa manifestazione. Indubbiamente, oltre a dei buoni piatti, offre anche qualcosa ai visitatori che possono visitare quindi spettacoli, ma quelli ci sono da ogni parte, ma per chi vuole invece o ha interessi anche culturali qui qualcosa trova, oppure anche per temi specifici come quest'anno che sono dedicati al mondo femminile e indubbiamente sappiamo dalle cronache purtroppo cosa sta succedendo da noi in questi ultimi tempi e quindi benvenga anche un'iniziativa del genere. E credo che sia proprio questo, cioè il connubio tra una gastronomia di qualità e l'offerta che viene data al visitatore, credo che sia gli elementi che hanno fatto decollare questa manifestazione assieme anche a chi li organizza e a tutti i volontari che, come in ogni sagra, sono sempre presenti e che fanno il massimo per la riuscita della manifestazione.